Rissa finale, rissa finale, rissa finale, l'Utaco è spulso! Oddio, rissa finale, incredibile! No, vabbè, è un momento solo a quadrato. Bravo Fusato, l'Utaco! Bravo L'Utaco! Segna sul rigore quello sfigato! Vabbè, va! Ma il rigore veramente non lo ho capito! Mi sa che finisce così la partita, guarda! Ho il video salvato, diciamo! Inter in 10 nel finire! Mi sa che finisce così la partita! Vieni, che sera! Vieni, 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 vieni! Non ti sento così la partita! Ragazzi, finale pazzesco! All'esempio, la partita è stata, nel primo tempo, equilibrata. ad esempio ecco la rissa fanno incredibile 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 non si finisce più la rissa no è incredibile c'è è finito il bis anche qua non con i sosi sono le tue squadre dai ho ancora lissa fanno ad esempio l'inno è bellissimo ragazzi comunque a ritorno non so se ci recito bravo che pulchi morto pazienza ragazzi comunque ho visto cose incredibili nel finale poi ve lo spiego tutto a casa comunque il finale è finito in rissa davvero incredibile tutti esclusi così colate dell'Inter anche l'allenatore sì sì ora ci si becca il ritorno non so come sarà il ritorno ragazzi è stata una partita equilibrata da parte delle due squadre sia nel primo tempo nel secondo tempo dalla sblocca da quadrato al minuto 83 poi nel finale al 93 gli dà un calcio di rigore forse per fallo di mano che so poi Lukaku si fa espellere poi Andanovic è spulso tutti espulsi ne riparleremo dopo ragazzi comunque sempre fino alla fine